eh eh buona buongiorno a tutti anche a chi ci segue a distanza non soltanto alle persone che sono qui eh al centro studi ehm introduco la seconda sessione della mattina eh che eh ha all'obiettivo sostanzialmente di riportare alla eh di portare all'attenzione del del pubblico insomma quelli che sono i risultati un pochino più teorici almeno che che pensiamo essere più interessanti del nostro eh progetto di ricerca da un punto di vista comparato quindi tirare un po' le fila della nostra ricerca evidentemente torneremo ancora su quello che è il eh quella insomma il continuum che abbiamo già di cui abbiamo già parlato un po' di volte tra eh servicing eh servicing tradizionale e servicing nella logica dell'organizing eh anche se come abbiamo visto questa mattina e anche ieri eh ci siamo appunto interrogati se eh sia davvero quello il risultato complessivo del nostro progetto o se invece andando proprio a indagare i servizi innovativi quello che abbiamo trovato non sia appunto il nuovo sindacato quello che sarà il nuovo sindacato nuove forme di sindacalizzazione che magari in un prossimo futuro eh saranno la norma e che oggi invece sono un po' eh l'eccezione eh e che di conseguenza l'uso dei servizi no? Siano essi individuali, collettivizzanti, no? Nell'ottica dell'organizing davvero diventeranno eh il nuovo per l'appunto paradigma eh dell'azione uno dei nuovi paradigma dell'azione sindacale. eh lascio la parola adesso eh a i ad Andrea Bellini eh del dell'Università Sapienza eh di Roma ma che all'inizio del progetto era appunto Università di Firenze come del resto il sottoscritto ehm e eh appunto per per parlare fare una relazione per l'appunto su eh eh dei risultati della nostra eh ricerca comparata e in in seconda battuta lascerò invece ehm la 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 parola introdurrò eh Mattia Pirulli che è il segretario ehm generale della della Felsa eh CISL che eh come sappiamo è eh la 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 categoria della della CISL che rappresenta i somministrati, gli autonomi e e gli atipici. Eh quindi spero insomma che eh Pirulli possa oltre a darci il suo contributo anche eh dare dare evidentemente un input no? Input significativi dal punto di vista sindacale ehm sui risultati che eh Andrea Bellini ehm introdurrà appunto su rispetto al al tema al tema alla nostra ricerca ricerca comparata. Quindi eh lascio dunque la parola ad Andrea e e allora grazie sì grazie. Dunque sì eh il il titolo è stato già un po' introdotto da Alberto eh abbiamo messo eh abbiamo messo eh a new paradigma eh con il punto interrogativo eh è una domanda aperta ovviamente a cui cui con i nostri risultati di ricerca forse non siamo eh in grado di rispondere eh o forse sì non lo so ecco un pochino diciamo ci dobbiamo ancora eh ancora eh ancora pensare. Eh il diciamo la cosa che vorrei fare la cosa il tipo di riflessione che vi vorrei proporre è ehm si articola in tre fasi. Eh una prima fase eh vorrei riprendere alcuni concetti che sono stati ampiamente usati ehm nell'ottica di cioè cioè diciamo questi concetti in qualche modo durante la nostra attività di ricerca durante anche le 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 riflessioni e le discussioni collettive che abbiamo avuto nell'ambito del progetto eh non so questo ci ha aiutato un po' a definirli meglio o a ridefinirli o o a definirli e declinarli nella logica eh del nostro oggetto di ricerca che era appunto eh l'impatto no? Dell'offerta di servizi eh sulla membership e sulla eh partecipazione sindacale al sindacato. Eh quindi questa è una prima una prima cosa poi vorrei provare a fare un appunto una una così un'analisi una riflessione trasversale no? Di 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 cercando di tenere insieme un po' le tante cose che ci siamo detti in queste due giornate e ehm e soprattutto insomma a cercare di fissare eh un po' meglio di definire un po' meglio eh questo concetto questa categoria che non so appunto se può diventare un nuovo paradigma eh anche di del rispetto al fare sindacato ma eh sicuramente è una nuova eh non lo so perlomeno a noi ci sembra una ehm una categoria ecco interpretativa eh interessante che è quella di servizi collettivizzanti. Allora mh perché eh vorrei cominciare un po' dal proprio dall'inizio ma molto rapidamente eh perché i sindacati offrono servizi eh per per vari per varie ragioni per vari motivi no? Eh intanto va detto che l'offerta di servizi a parte i sindacati ma lo abbiamo forse già detto eh lungo il il nostro percorso di riflessione in queste due giornate eh fa parte un po' del DNA insomma delle organizzazioni di matrice di tipo sindacale insomma già eh le 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 società di mutuo soccorso dell'ottocento in qualche modo eh in un certo senso eh offrivano offrivano servizi quindi diciamo l'offerta di servizi è anche un'espressione eh dell'originale etos di servizio eh nel ehm eh proprio delle organizzazioni sindacali eh ovviamente eh per offrire eh o quantomeno per rafforzare eh la posizione dei lavoratori nel mercato del lavoro e eh come una risposta alla eh crescente individualizzazione delle relazioni di lavoro no? In quel come portato del diciamo di questo processo eh spesso definito forse in modo un po' criptico e un po' con un concetto un po' abusato di neoliberalizzazione. Eh da un punto di vista più pragmatico eh le le l'offerta di servizi risponde all'esigenza di appunto di eh incrementare il numero di iscritti e eh e delle risorse le risorse finanziarie a disposizione dei dei sindacati e ultimo ma eh non ultimo appunto eh estendere il raggio d'azione no? Eh in qualche modo questo va in sinergia con il eh il rafforzamento della membership in senso ampio quindi anche qualitativo non solo quantitativo eh l'estensione del raggio d'azione eh teso ad includere anche i eh lavoratori non organizzati. Va detto che molto spesso queste ragioni sono compresenti quindi eh da questo punto di vista forse in alcuni casi troviamo più l'accento eh su uno di questi obiettivi in altri eh ne troviamo altri però eh solitamente a quantomeno alcuni eh di questi obiettivi sono non solo compresenti ma eh interagiscono tra di loro in modo sinergico. Eh servicing e organizing eh sono eh due eh per come li abbiamo usati e definiti in in questi giorni eh due opzioni strategiche sostanzialmente eh che vengono utilizzate per rispondere a eh alcuni di questi eh di questi obiettivi. Eh ora non ritorno forse nel dettaglio sul sulla differenza tra servicing e organizing perché l'ha già in qualche modo introdotto Alberto nel suo intervento ehm iniziale ne abbiamo parlato comunque diffusamente. La cosa che ecco mi mi preme eh come dire ehm sottolineare è che si tratta appunto di due approcci strategici eh che ovviamente insomma sono come tali poi vengono tradotti in pratica ma eh che eh da un punto di vista diciamo così eh teorico strategico eh presentano caratteristiche e logiche di funzionamento ehm molto diverse in alcuni casi eh opposte ehm e eh come dire sono anche strategie eh diversamente efficaci no nel senso diversamente efficaci nel senso che eh hanno eh entrambi pro e contro eh organizing più efficace nel creare appunto nel costruire un'identità collettiva e creare una comunità che poi eh possa essere anche oggetto di immobilitazione il servicing un'offerta invece di ehm beni individuali eh che eh è più efficace nel come dire nel far crescere più rapidamente la 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 membership ma ma al prezzo di una di una membership un po' eh più debole e e volatile quindi eh non solo caratteristiche diverse logiche diverse ma anche problemi diversi quindi per esempio l'organizing è forse più eh fa forse più fatica rispetto alla soluzione del problema del free riding eh mentre il servicing ha il suo vulnus appunto nella promozione di una partecipazione attiva alla ehm vita del sindacato eh abbiamo anche avuto modo di 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 riflettere su questo no? Cioè sul fatto che eh i eh servizi sindacali siano più diffusi in alcuni paesi e meno in altri no? Quindi ci siamo anche un po' un po' chiesti perché non l'abbiamo fatto solo solo qui a questo tavolo l'abbiamo abbiamo continuato a rifletterci anche eh a pranzo e a cena ieri sera quindi ehm è difficile da dire ecco i i fattori che influenzano eh il la diffusione dei servizi sindacali e anche il radicamento di que della tradizione dei servizi sindacali nel nell'azione dei dei sindacati nei vari paesi eh dipende da vari fattori eh lo abbiamo detto insomma le 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 tradizioni nelle nelle relazioni industriali eh il grado di sviluppo del movimento sindacale questo forse eh lo abbiamo visto bene anche raffrontando i nostri eh casi nazionali in particolare diciamo quelli dell'Europa eh continentale e occidentale con quello lituano no? Dove appunto eh c'è un 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 movimento sindacale più giovane eh e quindi in una in quella logica di eh come dire evoluzione quindi nella prospettiva processuale no? Di analisi dell'evoluzione dei sistemi di relazioni industriali eh forse si pone ancora nella fase centrale in cui eh c'è un eh nella fase di consolidamento appunto no? Quindi dove c'è una forte enfasi sui metodi tradizionali no? Come eh ad esempio ovviamente il caso più 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 lampante è la contrattazione collettiva eh un un aspetto importante parlava parlavamo anche poco fa è eh la ehm distribuzione a livello territoriale la copertura territoriale no? Delle sedi eh sindacali anche questa è molto diversa nei 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 paesi che abbiamo eh organizzato eh sì che abbiamo studiato pardon eh e e e dipende molto anche dal modello organizzativo eh dei eh dei sindacati nei vari paesi ma ci sono anche altri fattori che attengono per esempio al l'azione di supporto dello Stato quindi al ruolo dello Stato rispetto alla promozione dell'azione sindacale eh il grado e l'estensione della protezione del lavoro quindi il fatto che vi siano categorie eh o meno insomma eh più o meno sfuggenti rispetto eh all'azione sindacale eh ecco entrando un pochino più nel nel dettaglio ma eh rimanendo sempre su un un certo livello di astrettezza insomma con un esercizio di sintesi rispetto a molte cose che che ci siamo detti in questi giorni ehm che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato intanto diversi approcci strategici al servicing eh approcci strategici che hanno anche se vogliamo eh un una caratterizzazione mettiamola così a livello nazionale no? Cioè una specificità eh nazionale quindi troviamo un uso più estensivo più esteso del dell'offerta di servizi eh diretta per lo più ai agli iscritti eh al al sindacato per esempio in paesi come Belgio e Danimarca eh abbiamo un sistema di offerta molto forte in Italia dove abbiamo trovato rispetto ovviamente anche limitatamente un po' anche ai casi che abbiamo organizzato però diciamo prima di eh selezionare i casi ci siamo un po' guardati intorno abbiamo cercato di capire effettivamente che cosa c'era quindi l'idea che ci siamo fatti è che appunto in Italia ci sia un'enfasi eh piuttosto forte sul l'estensione eh o comunque un discorso avviato per quanto riguarda l'allargamento del l'offerta di servizi sia attraverso eh gli strumenti eh i canali diciamo sì esistenti sia una quella che è una peculiarità se vogliamo italiana eh troviamo in altre forme anche in in alcuni paesi europei però diciamo così com'è eh abbastanza una una peculiarità italiana che è quella della bilateralità e attraverso in azioni innovative eh che abbiamo trovato sia a livello nazionale in realtà eh sia eh eh forse soprattutto a livello eh territoriale eh e poi noi abbiamo ehm due paesi come Spagna e Lituania in cui l'offerta di servizi è più limitata spesso limitata a servizi di base eh e qui insomma come eh accennavo poco fa forse le spiegazioni sono anche abbastanza articolate quindi in Spagna abbiamo organizzazioni eh sindacali eh con un problema eh di ehm di matrice organizzativa quindi eh cioè di diciamo di di carenza eh intrinseca non so come dire di di risorse eh quindi una 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 debolezza organizzativa che in qualche modo in funge da 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 vincolo eh rispetto alla strutturazione di sistemi eh di offerta di servizi eh articolate ed estesi sul territorio eh e eh la Lituania invece in cui eh abbiamo ragioni più di carattere storico mettiamola così legati appunto alla transizione tra ehm diciamo post sovietica eh molto rapidamente eh perché eh sì non ha non abbiamo molto moltissimo tempo ehm sempre sulle scelte strategiche eh tre tre aspetti ehm molto importanti che ci aiutano a distinguere i vari casi nazionali sono il livello organizzativo appunto a cui ehm i servizi vengono pensati, strutturati, offerti eh i gruppi target quindi i gruppi di utenti diciamo così eh cui si rivolgono i servizi e la forma di finanziamento quindi in poche parole chi paga eh per i per i servizi eh qui insomma abbiamo trovato delle un un quadro molto eh molto molto vario ecco quindi per esempio in alcuni casi abbiamo visto sistemi di servizi che si eh inseriscono in un quadro quadro eh strategico eh più organico altri molti eh che che invece sono il frutto di eh un fenomeni diciamo così di imprenditorialità politica soprattutto a livello locale eh e ehm mi limito un po' ai senza scendere troppo nel dettaglio ai agli aspetti più più qualificanti per quanto riguarda i target group ci siamo proposti il problema e ce lo stiamo ponendo tuttora perché forse eh bisogna fare ulteriore chiarezza su questo aspetto cioè di definire che cosa si intenda effettivamente per servizi innovativi eh un aspetto comune un po' a tutte le cose a mh insomma all'attività di ricerca tutta che abbiamo svolto nei vari paesi è che eh i servizi spesso vengono definiti come innovativi laddove si rivolgono a una eh platea più ampia a un pubblico più ampio quindi eh in gran parte composto da persone che eh sono fuori dal raggio d'azione eh del sindacato eh quindi insomma lavoratori autonomi freelance precari lavoratori su piattaforma ne parliamo tanto ma anche disoccupati e e eccetera chi paga per i servizi vabbè qui eh eh diciamo abbiamo un un come dire un un po' una visione dicotomica no? Quindi eh in alcuni casi ehm abbiamo trovato eh soprattutto laddove i servizi non sono servizi tradizionali eh è solitamente richiesta una eh il pagamento appunto di eh del servizio o o quantomeno l'iscrizione un il pagamento della tessera di iscrizione eh laddove però insomma ci sono come dire questi servizi si rivolgono a soggetti particolarmente difficili da raggiungere e forse anche affetti da una certa eh vulnerabilità eh abbiamo insomma servizi eh come abbiamo sentito anche ieri per esempio sul quanto riguarda ehm sportello lavoro no? Quindi eh i ehm servizi rivolti a persone disoccupate comunque eh che hanno una posizione fragile nel mercato del lavoro eh sono appunto eh a titolo gratuito e solitamente non richiedono l'iscrizione eh il risultato anche su questo Alberto ci ha eh cioè questa figura è stata già ampiamente descritta da Alberto quindi non ci ritorno però eh il risultato che uno dei risultati che abbiamo ottenuto è eh come dire eh la rappresentazione di una ehm una figura di un insomma molto più più complessa da quella eh dicotomica da cui siamo partiti no? Quindi organizing versus servicing eh eh ci siamo chiesti più volte come rappresentarla poi alla fine qui eh abbiamo scelto graficamente la strada eh potrebbe essere un fiume non lo so ecco però qualcosa che dà l'idea di un flusso eh continuo e vedete come abbiamo più o meno disposto i vari casi nazionali eh passiamo da un servicing nella logica appunto dell'organizing quindi che eh offre servizi strumentali alla eh fondamentalmente un'azione di mobilitazione eh e ehm di svolgimento di attività più tradizionali come la contrattazione collettiva eh fino a ehm eh o meglio passando per una serie di sfumature di quello che abbiamo definito come servicing strategico ehm fino al servicing più tradizionale quindi l'offerta di eh servizi di beni in individuali eh ok eh dunque eh un'altra cosa che abbiamo fatto è cercare di ragionare in termini eh di fare un po' un'analisi in termini di domanda offerta quindi cercare di eh capire effettivamente se le strategie eh queste strategie tradotte in pratiche le pratiche che abbiamo studiato eh rispondevano effettivamente ai bisogni dei lavoratori eh e qui abbiamo trovato appunto che eh per quanto riguarda i i bisogni espressi dai lavoratori eh insomma abbiamo una gamma relativamente ampia prevalentemente eh c'è una richiesta di i servizi e di protezione individuale ma anche di una richiesta di di rappresentanza e in alcuni casi di eh identità collettiva quindi un senso il bisogno di un senso di appartenenza a eh e e di comunità. Va detto che proprio quest'ultimo aspetto non necessariamente quindi la la il bisogno di appartenere a una comunità non necessariamente è eh implica è legato al a una eh disponibilità a mobilitarsi quindi eh di nuovo eh uno dei principali risultati è eh che eh appunto la membership che si crea attraverso questo canale è una membership eh relativamente volatile o comunque una membership senza partecipazione o sensazione. Eh chiudo con questa eh e quindi ci siamo chiesti un po' anche come effettivamente eh a quale eh un po' più nel dettaglio a a quali fossero effettivamente gli obiettivi eh che si prefiggevano i eh che si prefiggono eh le organizzazioni sindacali nell'offerta di servizi. ehm eh e qui eh il il quadro è interessante parliamo innanzitutto di una strategia per la legittimazione molto meno per la per la mobilitazione quindi ehm legittimazione come ehm quindi guardando da una parte a come il sindacato è percepito da eh specifici gruppi di lavoratori eh e eh dall'altro come questi gruppi di lavoratori sono sono inquadrati no nelle strategie e nell'organizzazione sindacale. Eh insomma qui torniamo un po' alla domanda originaria eh di quella se di eh se appunto queste queste pratiche riescono a eh incrementare la membership anche questo è difficile da dire insomma non abbiamo sufficiente evidenza empirica per rispondere eh a questa domanda almeno per i servizi di cui ci siamo occupati noi eh ma ehm appunto come ho già detto eh diciamo sembra appunto che questa membership sia una membership abbastanza eh volatile. vi lascio con una domanda aperta eh abbiamo parlato spesso eh in questi due giorni di ibridazione eh e a questo punto ci diciamo abbiamo avuto alcune evidenze in questo in questo senso eh ibridazione per esempio tra servizi di tipo tradizionale e eh servizi eh di tipo nuovo eh non so se ibridazione sia la parola giusta in alcuni casi forse è più corretto parlare di azione sinergica non lo so in altri addirittura di come dire di fusione o di processo di istituzionalizzazione di eh esperimenti locali per esempio eh però appunto ci chiediamo se i eh anche se non rappresentativa necessariamente della di tutte le realtà che abbiamo studiato quella dell'ibridazione possa essere invece una chiave strategica eh per rivedere in qualche modo no? Le strategie del sindacato e eh combinare appunto in fondere in modo eh organico eh le le strategie che guidano le logiche che guida l'azione tradizionale con quelle quella più propriamente detta di servizi. Grazie Andrea per averci eh dato un po' eh alcune ancora non definitive no? Ancora non definitivi risultati eh della 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 nostra ricerca ci ci lavoreremo ancora e eh presenteremo ehm nelle prossime settimane un vero e proprio comparative report eh dove diciamo oltre ai risultati della ricerca terremo anche in considerazione evidentemente anche le cose che sono emerse dalla eh discussione di questi due giorni. A questo punto chiedo invece a eh Mattia eh Perulli insomma se eh come come dire se vede se nella nella sua esperienza vede ancora no? Una distinzione tra per l'appunto servizi ehm tradizionali no? Con che hanno appunto una funzione ehm prevalentemente individuale che sono orientate all'individuo e dall'altra parte invece eh l'organizing no? Quindi esiste come dire questa dicotomia oppure come come abbiamo visto noi nella nella tua esperienza eh ci sono davvero forme ibride in particolare la presenza per l'appunto di questo nuovo tipo eh di servizio che noi abbiamo chiamato eh servizio eh di tipo collettivizzato. Ecco grazie per per del tuo contributo. Sì grazie grazie anche dell'invito eh io proverò chiedo di indicarmi se sforo i tempi nel caso eh mi fermo. Eh proverò un attimo a interagire su quello che è venuto fuori ma partirei innanzitutto da che cos'è la Felsa? Eh che secondo me eh spiega anche entra anche nei temi che stiamo trattando. Tenete conto che la Felsa eh segue una varietà di lavoratori che sono i lavoratori somministrati i lavoratori autonomi e i lavoratori atipici cosiddetti atipici intendiamo collaboratori coordinati continuativi. Nasce nel novantotto nello specifico la nostra realtà da un'intuizione di Sergio D'Antoni allora segretario generale della CIS che diede una lettura ai cambiamenti che venivano in atto con il pacchetto treu diede a mio avviso una eh lettura molto corretta e cioè il pacchetto treu introduceva nuove forme lavorative e da lì eh nacque la volontà di dare rappresentanza a questi mondi cioè non di contrastarli ma di dare rappresentanza cioè costruire tutele per un mondo che eh incominciava a entrare nel nel mercato del lavoro quell'intuizione lì ha avuto un percorso di vent'anni che ha avuto anche un'evoluzione particolarmente significativa. Eh noi rappresentiamo quindi non nasciamo come eh come ehm ehm spesso nascono le federazioni per un settore merceologico. Seguo l'agricoltura, seguo il commercio e quant'altro ma noi seguivamo dei lavoratori che stavano in diversi settori merceologici cioè seguivamo rappresentavamo il mercato del lavoro rappresentiamo il mercato del lavoro nelle sue diverse fasi e nelle sue diverse transizioni. Questo come dirà a posto una serie di elementi eh non di poco conto perché eh vuol dire rappresentare anche eh non una definizione ben chiara di di lavoratore ma una varietà di lavoratori che possono vivere la stessa condizione contrattuale magari ma in maniera molto differente nell'esito professionale o nell'esito delle competenze che vi acquisisce. Faccio un esempio noi rappresentiamo il lavoro autonomo spesso in Italia si è parlato di falso lavoro autonomo. Noi al nostro interno invece rappresentiamo il lavoro autonomo puro attraverso l'esperienza di Vivace oggi come dire anche all'interno della Fels e quant'altro ma rappresentiamo anche rappresentando il mercato del lavoro anche la falsa partita IVA cioè quello che non ha niente a che fare con quel lavoro autonomo ma che nasconde invece una subordinazione di lavoro e allora questo è importante perché o eh ha ha come dire domande complesse risposte complesse cioè queste contraddizioni non possono essere risolte in sono tutte false partite IVA o sono tutti veri lavoratori autonomi ma andare a rappresentare quelle specificità questo segmenta ancora di più la modalità di rappresentate stessa cosa nel lavoro somministrato perché anche nel lavoro somministrato noi rappresentiamo come dire un temporaneità che vanno da un giorno a un tempo indeterminato e quindi come dire sono sempre temporaneità anche il tempo indeterminato però come diranno nature molto differenti e al loro interno come dire ogni ogni realtà ogni tipologia di somministrazione potrebbe essere un come dirlo un'opportunità perché genera opportunità genere genere anche competenze professionalità e altre che invece sono totalmente estemporane nel percorso lavorativo e su questo potrei visto che siamo in un ambito internazionale citare un esempio negativo di di utilizzo della somministrazione che si chiama Amazon che credo che tutti conosciamo eh rappresentare queste contraddizioni quindi ha dovuto eh generare anche una modalità nuova di rappresentanza dicevo però la il primo punto fermo è stata la volontà di rappresentarli il millenovecentonovantotto nel duemila e nove noi eh da Alai ci chiamavamo Alai diventiamo Felsa e eh ci fondiamo appunto con i lavoratori autonomi con la rappresentanza dei lavoratori autonomi rappresentavamo solo i somministrati invece dal duemila e nove in poi rappresentiamo questo universo mondo che ha come dicevo elementi comuni ma anche elementi molto differenti come li abbiamo provati a rappresentare eh nel mondo del lavoro autonomo credo che eh sia stata molto chiara Sibia nel nel nell'esposizione perché come dire l'esperienza di vivace sta eh anche all'interno nasce eh con l'esperienza di vivace anche perché Silvia eh ha avuto anche un trascorso nelle nell'esperienza della Pelsa eh e ha generato come dire sta generando una serie di di elementi anche nel lavoro autonomo attenzione non non è solo la differenziazione di di come dire di falsa o vera partita IVA ma all'interno del lavoro autonomo ci sono anche come dire quelle specializzazioni che ci sono come in tutti gli altri lavori e abbiamo tipologie totalmente nuove come il tema delle piattaforme quindi come affrontare le piattaforme come come eh associare questi lavoratori a forme tradizionali di partite IVA se voi andate visto per chi soprattutto viene da fuori se andate al mercato di San Lorenzo qua a Firenze sono tutti lavoratori iscritti alla Felsa e eh sono eh come dire vivono la loro libera professione e eh uno degli strumenti principali con cui si incominciò ad associare questi lavoratori furono proprio i servizi attraverso un sistema di servizi della tenuta della contabilità che come dire partendo da lì però non non si non finiva lì era lo strumento con cui in realtà eh si accompagnava rispetto a un problema specifico che era la contabilità molto trasversale comune a tutti ma li seguiva e li segue tuttora anche per i problemi più come dire eh contingenti la la licenza lo lo spostamento del mercato visto che come dire è stato anche spostato il mercato di San Lorenzo per esempio e quant'altro quindi ed è una figura che anche qui aggiungo in particolare non di poco conto che questa esperienza del lavoro autonomo nel sindacato nella CISL è seguito dal millenovecentocinquanta cioè nasce quando nasce la CISL il la CISL rappresentava il lavoro dipendente ma anche il lavoro autonomo non nasce come sindacato del lavoro dipendente ma al suo interno aveva già esperienze di questo tipo eh come abbiamo provato un po' a nell'evoluzione invece nel lavoro somministrato che credo possa anche rispondere ad alcune delle domande che sono state poste noi nel lavoro somministrato per noi il servizio non è avulso dall'esperienza della rappresentanza anzi attraverso non l'abbiamo incominciato a fare innanzitutto attraverso lo strumento della bilateralità cioè strumento contrattuale dove abbiamo costruito per dei lavoratori che avevano una natura transitoria avevano una natura scusate eh di transizioni lavorative quindi di discontinuità delle prestazioni di welfare specifiche su di loro faccio l'esempio più eclatante nel duemila e due dopo quattro anni che veniva introdotto lavoro interinale in Italia lavoro somministrato la stessa cosa abbiamo fatto la prestazione di accesso al credito cioè di prestiti perché perché le banche non riconoscevano questa forma contrattuale e allora abbiamo incominciato a fare attraverso un sistema mutualistico di bilateralità abbiamo incominciato a fare prestazioni di sostegno al rete di accesso al credito da quella che che quindi come dire lo accompagnava anche fuori dall' esperienza del lavoro quindi non solo la tutela nel luogo di lavoro ma continuare anche la tutela al di fuori del del luogo di lavoro del periodo di lavoro con sistema di welfare oggi siamo passati da una prestazione a ventiquattro prestazioni molto diversificate cioè andiamo dal sostegno alla maternità andiamo al sostegno al all'accesso al credito eh la tutela per la tutela sanitaria tutti i vari ambiti della vita lavorativa del lavoratore ma partendo da un assunto che questi lavoratori sono caratterizzati da una discontinuità quindi tutelare sul luogo di lavoro ma tutelare anche nei periodi di non lavoro in questa transizione eh questo tema delle transizioni eh scusate quando noi abbiamo fatto le prestazioni della bilateralità i servizi della bilateralità abbiamo posto un elemento e cioè non abbiamo detto la bilateralità deve fare ma abbiamo detto la bilateralità come dire eh permette l'accesso a queste prestazioni ma il lavoratore può averne accesso presentandosi agli sportelli sindacali cioè non abbiamo demandato un soggetto terzo ma abbiamo detto proprio perché quello non è uno strumento avulso dalla dall'azione di rappresentanza poterlo fare nei nostri sportelli sindacali accreditati eh con tutti gli elementi di di definizione e quant'altro questo che cosa ha generato? Che noi seguendo un mercato del lavoro rappresentavamo nascevamo innanzitutto sul territorio non sui luoghi di lavoro come rappresentanza lo sportello accoglieva queste persone nel periodo di lavoro al termine del periodo di lavoro ma quello strumento io non facevo meramente la non faccio meramente la prestazione ma chi glielo faceva era lo stesso sindacalista che poi gli proponeva una vita associativa non era un funzionario che faceva la pratica metteva il timbro e il lavoratore era contento che va a trecento euro in più ma chi gli chi gli propone quella quella pratica lì è lo stesso soggetto che come dire gli propone una vita associativa cioè partendo dal suo bisogno specifico dando una risposta a un bisogno specifico come dire lo accompagna anche in una consapevolezza di vita associativa che è il sindacato perché il sindacato come dire non è un soggetto che fa prestazioni il sindacato è un ha un valore associativo cioè una vita collettiva una vita democratica e collettiva questo che cosa ha generato non in tre mesi ma ci abbiamo messo vent'anni per fare tutto questo ha generato il fatto che quegli sportelli che nascevano come sportelli territoriali hanno permesso di generare una rappresentanza sui luoghi di lavoro tanto che oggi noi siamo passati da una rappresentanza sul del territorio dal territorio una rappresentanza sui luoghi di lavoro attraverso i classici anche introducendo anche i classici strumenti di rappresentanza rsa rsu e quant'altro e quindi questo credo che abbia eh di al senso di che cosa noi intendiamo per ibridazione costruire sicuramente servizi in interessanti innovativi e che rispondono a un bisogno del lavoratore ma che devono essere necessariamente all'interno e uno strumento di una proposta associativa dove la la vita associativa non è la tessera la vita associativa è come dire la partecipazione tanto che da una pratica fatta per il sostegno a reddito perché il lavoratore perdeva il lavoro o da una pratica fatta da per la tutela sanitaria si costruiva una rappresentanza sul luogo di lavoro e si costruivano si costruiscono risposte per bisogni specifici in quel luogo di lavoro dove magari il lavoratore all'inizio pensava di essere da solo invece si accorge che erano altre cento persone con lo col suo stesso problema e questo genera risposte genera cambiamenti ultimo elemento e poi chiudo noi proprio perché rappresentavamo transizioni lavorative uno dei primi problemi che si poneva a chi stava sul territorio era sì io ti seguo mentre lavori ma magari arrivi da me che hai già perso il lavoro e allora ci si domandava come poter aiutare le persone nella ricerca del lavoro come dire erano i club giovani hanno avuto tutta un'evoluzione oggi si chiamano sportello lavoro per noi era intrinseco perché non potevo seguire solo quel segmento e dire vabbè adesso ho perso il lavoro in bocca al lupo ma come posso esserti di aiuto come posso accompagnarti come posso sostenerti e sollecitarti si è arrivati allo sportello lavoro ma per noi come dire ha avuto un'ulteriore evoluzione perché abbiamo detto dall'esperienza del come dire dell'accompagnare i lavoratori nella ricerca del lavoro con strumenti specifici e come dire conoscenza e consapevolezza delle proprie competenze delle proprie eh capacità e generare opportunità abbiamo generato anche però elementi contrattuali che si chiama come dire eh il non mi viene il nome mi è scappato il nome contrattuale che gli abbiamo dato però facciamo sostanzialmente abbiamo cominciato a fare politiche attive contrattuali per cui oggi contrattualmente un lavoratore che perde il lavoro che termina scusate che termina il contratto di somministrazione noi gli diamo due cose la politica passiva cioè attraverso il sistema di bilateralità gli diamo dei soldi aggiuntivi a quanto gli dà l'Inps e si chiama sostegno al reddito e poi gli diamo una politica attiva cioè la possibilità per il lavoratore diritto soggettivo alla formazione del lavoratore per cui il lavoratore può uscendo dall'agenzia uscendo dal suo contratto di lavoro può decidere di candidarsi e rivolgersi a un'agenzia che individua lui quindi non quella da cui esce perché magari è stata un' esperienza pessima non lo costringiamo ad avere come dire continuare ad avere quel rapporto con quell'agenzia lì ma poi individuare un'agenzia a cui affidarsi per fare una politica attiva si chiama diritto mirato mi è venuto il nome in questo modo qua e chiudo eh credo che come dire sia chiaro che il servizio è uno strumento ma eh se avulso da un'azione sindacale inteso come eh azione associativa e quindi come capacità di di non solo mettere insieme nell'istante ma mettere insieme rispetto anche a un obiettivo più ampio credo che come dire se se il servizio sta all'interno di questa visione il servizio è totalmente eh integrato nella vita associativa e e quindi è totalmente integrato nell'azione sindacale io non vado oltre spero di aver risposto anche alle domande sono andato un po' lungo volevo essere più breve ma sono sindacalista e quindi vado sempre lungo grazie bene finisce qua questa sessione perché come avete capito il il Torquid Holmen High della danese non non poteva essere tra noi eh adesso invece lascio la 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 moderazione a Francesco Lauria che introdurrà invece eh Paolo Feltrin e poi anche il dibattito che finalmente ci sarà bene grazie grazie dal bene a Andrea a Mattia e salutiamo anche Giulio Romani che ci ha già già raggiunto quasi dall'inizio dei lavori è un segretario confederale che ascolta oltre che intervenire questa è una cosa molto preziosa per noi e e poi scuso già in anticipo anche Paolo perché come ci aveva detto fin dall'inizio alle dodici e quarantacinque dovrà eh partire quindi eh io eh ho alcune cose da dire eh ma lo farò dopo eh penso sia molto importante lasciare spazio a Paolo Feltrin che come sapete già docente di Trieste eh uno dei massimi esperti eh a livello europeo di sindica di sindacalizzazione non farò una presentazione come quella di di carriere ma potremmo avremo ci sarebbe spazio per farla quasi quasi e dico solo una cosa il la eh l'intervento di Paolo Feltrin ma anche quello di di Giulio Romani si collegano alla sessione precedente ma sono anche uno step ulteriore in questo percorso cioè la eh questione della confederalità quindi il punto di vista di Felsa per esempio o di Nidil o delle tante esperienze straniere che abbiamo visto è il eh o di Vivace è partita viva Vicenza sono diciamo queste luci sul mondo del lavoro sindacato in uscita e così via ma chiaramente nella eh riflessione del progetto c'è anche il tema delle strategie confederali e quindi chi meglio di Paolo Feltrin che studia questi temi da decenni può eh darci diciamo da un lato un commento generale alla ricerca e dall'altro anche collegarlo a ricerche a studi analisi che appunto eh lui realizza eh e sono sempre aggiornatissimi quindi grazie ancora di essere qui e l'obiettivo è che eh dopo l'intervento di Paolo apriamo una breve sessione di dibattito per davvero eh grazie dell'invito sia io che Mimmo facciamo parte della old school siamo vecchi no? Quindi che i nuovi giovani crescano lavorino studino vediamo cosa viene fuori quindi eh complimenti per il lavoro di ricerca eh complimenti anche per aver pensato in questo momento storico di aprire un dibattito e una discussione di questo genere eh che nessun sindacato vuole mai fare perché se ne vergogna e il lato oscuro della luna della forza questo è il punto no? Eh eppure vale pena parlarne perché ecco questa è la prima osservazione per cui vale la pena discuterne eccetera eh perché siamo in momento di difficoltà e di tradizione di transizione anche dei servizi tradizionali e questo pone dei problemi seri sul futuro questo è il nocciolo della questione su cui cercherò di attirare l'attenzione eh partiamo però da da una domanda generale perché alcuni sindacati vanno meglio di altri c'era anche a un certo punto del slide di questa mattina oppure perché alcuni sindacati vanno meno peggio di altri? Ecco mettiamola giriamola vanno tutti male ma c'è chi va malino chi va malone no? Tranne gli africani o cose di questo genere no? eh l'unica evidenza empirica che abbiamo sensata a mio avviso è perché hanno il sostegno dello Stato e che perché fanno servizi come subagenzia statale non c'è nessun'altra spiegazione che tenga racconto dei casi di sindacalizzazione che vanno meno peggio nessuno ne parla perché si vergogliano si vergogliano gli ervedesi, i danesi, i norvegesi, i belgi, gli italiani però i quattro cinque casi di sindacalismo al mondo che va meno peggio non sono molti di più. Sono tutti legati a questa caratteristica. Chi è che l'aveva intuito? L'aveva intuito quarant'anni fa purtroppo legandolo a un discorso un po' diverso ma in parte l'aveva intuito giusto. L'aveva intuito Guido Romagnoli. La sindacalizzazione tra ideologia e pratica. L'ideologia è la veste ufficiale, la pratica, il volto, il volto scuro della forza. 1980 è il libro. Oltretutto coniugandolo con i sistemi di offerta. Qual era il limite del lavoro di Romagnoli? È il limite di larga parte i lavori successivi. Essere rimasti troppo abbagliati da Olson. È un abbaglio eh. Cioè non che non abbia ragione ma non c'è solo questo. È quello che avete sentito mille volte anche in questi giorni. Olson dice si possono fare iscritti, adesioni a grandi associazioni solo se ci sono incentivi selettivi. A grandi, le piccole, basta la partecipazione. Alle grandi solo se ci sono incentivi selettivi. Cosa sono gli incentivi selettivi? I servizi, informazione o possono essere monetari, non monetari. Tutta la classificazione degli incentivi selettivi posto e soniani. In realtà non è solo così, questo è il punto. Non è solo così ed è la critica principale da fare agli studiosi internazionali di sindacato e di relazioni sindacali. Che siano Wisser, Krautsch, Heimann, Regini, anche l'ultimo Trigilia. Cioè non guardare il lato oscuro della forza. Ora questi servizi il più delle volte nascono per caso. I servizi tradizionali in più delle volte nascono per caso. Il modello Genter, che è il tipico servizio prevalente nei paesi nordici, non è stato teorizzato. È stato fatto pensando ad altro. Pensato ad altro. Noi non è che pensavano di far quello. I suoi esiti sono importantissimi, ma nessuno ne vuole discutere. I 27.000 altri tipi di servizi che i sindacati fanno in giro per il mondo e alcuni sindacati forti fanno in maniera diffusa. Ad esempio in Belgio, per andare in ospedale, bisogna passare per il sindacato. Perché? Per caso. Ora questa casualità con cui nascono molti servizi, tipico esempio il CAF in Italia. Puro caso. Non c'è nessuna strategia, nessuna... A un certo punto si trattava di mettere dentro un emendamento nella finanziaria del 92-93, no? E si sono fatte le autorizzazioni di CAF, ha chiuso. Ecco, questa casualità rende quanto mai utile le sperimentazioni che abbiamo escusso in questi due giorni. Non si sa mai che ne venga fuori qualcosa di buono, non so se è chiaro. Cioè, sperimentare in questa fase storica qualsiasi cosa va bene. E' collettivizzante, non è collettivizzante? D'accordo, non importa, sperimentare. E chiarirò tra un attimo. Appunto perché siamo in una situazione di passaggio e la questione è complicata. ulteriore questione. Intanto va chiusa una discussione. L'organizing non funziona. Cioè, 30 anni di letteratura sulla rivitalizzazione sindacale via organizing non ha funzionato nulla. Non c'è un solo sindacato che ha imboccato quella strada che ha avuto successi degni di nota. Quindi, se 30 anni non bastano, vabbè, facciamone altri 20. Anche perché, attenzione che l'organizing come si intende in quella letteratura è il coinvolgimento delle comunità di base, l'azione locale. Ecco, non è questa la strada. Ve lo dico con... Almeno questa... È l'old view. L'old view. Allora, se vogliamo vedere appunto le ragioni del successo di alcuni sindacati, ci sono quattro variabili. Primo, sono sindacati nazionali. Ogni volta che ho sindacalismo locale il rischio che sparisca è dietro l'angolo. Sindacati nazionali che fanno contratti nazionali. Cioè, il contratto nazionale è il primo elemento di un sistema di offerta sindacale. Se non c'è, se non c'è, cominciano i guai. Sindacato nazionale con contratti nazionali. Per questo la domanda sul salario minimo viene. Ovviamente, appena introduco il salario minimo, cominciano i guai. Guardate la Germania, tanto per. Il Beige è un caso particolare perché è recente e perché ha trovato un modo intelligente di far funzionare le cose. Quindi, bisogna studiarli bene. Sindacato nazionale con contratto nazionale tendenzialmente confederale con un'amplissima quantità di servizi di servizi altamente diffusi sul territorio. Perché i servizi e i capillarità vanno assieme. Questo spiega perché l'Italia che non dovrebbe avere i risultati che ha secondo tutti i modelli di analisi e relazioni sindacali è il quarto, quinto, sesto paese a seconda delle misure per sindacalizzazione al mondo. Se la non si spiegherebbe. Eh, vi faccio vedere cosa comporta questo. Ovviamente il punto è andare nel quadrante in alto a destra. Alta sindacalizzazione e servizi forti che vuol dire attivi e pensionati. Uno dei grandi successi del sindacalismo italiano è avere un'associazione di pensionati. Anche solo per i soldi, eh. Tanto per essere molto... Ah, parentesi aperta. Era qua una parentesi che dovevo farvi. Uno dei limiti delle rilevanze degli studi in relazioni sindacali internazionali è il fatto che non si occupano di alcune cose fondamentali che un qualsiasi economista o un'azienda lista, eccetera, farebbe. Non si sa nulla sulle sedi. Chissà quante sedi sindacali ci sono in Germania, in Danimarca, in Svezia. Non si sa nulla su quanti funzionari, con quanti stipendi, con quali rapporti di lavoro. Non si sa nulla sui delegati e cosa fanno. Non si sa nulla sulle tessere. i dati sulle tessere sono dati, sappiamo bene, ma la tessera quanto costa in Danimarca, Svezia, Germania, Belgio, Italia, in quali categorie. Non si sa nulla sui bilanci sidacali veri, consolidati, poi ve ne faccio vedere uno. A livello comparato, non si sa nulla sul tipo di servizi e sul fatturato e il numero di addetti. e si pensa di sapere come funzionano le relazioni sindacali. Sulla base di un formalismo giuridico, copertura contrattuale, numero di iscritti, chiuso a far un momento, numero di contratti, per piacere. Poi ci si domanda perché dell'irrilevanza di certi lavori, insomma. facciamo degli esi, ecco, non è inutile che vi spieghi, però la cosa interessante, queste sono tutte le UST della CISL, qui avete le quote di mercato, CAF e INAS, patronato e CAF, e qui avete i tassi di sindacalizzazione dipendenti su pensionati, la cosa interessante è che sono vuoti i due quadranti, tendenzialmente vuoti i due quadranti, il secondo e il quarto, e cioè dove ho sindacato forte ho anche servizi forti, dove ho tanti iscritti ho anche tanti servizi, dove ho pochi iscritti o pochi servizi e le vie di mezzo non esistono, non esiste un sindacalismo che fa solo servizi o un sindacalismo che fa solo militanze. Questo è il nocciolo che emerge netto ed è una storia che dura da 50 anni, non da 10 o da 5, da 50 anni e in altri paesi da 70, 80. Solo che si preferisce non parlarne. Questo invece andiamo nella CGL. Questo è una camera del lavoro perché bisogna ragionare di numeri. Questa è una camera del lavoro di grandissimo successo che al contrario di quanto accade sia in Italia che nel resto ha triplicato gli iscritti attivi, ha quasi raddoppiato i pensionati, però da 17.000 a 44.000. Ha chiamato Landini per sapere qual è. Non glielo dico. Non glielo dico. Sì, scusate, scusate attivi, scusate, è divertito. Vedete? Da 21 a 37.000 attivi. Osservate le categorie. Perché non... Attenzione, io... Va bene tutto esplorare in nuovo, però ci sono 16 milioni di lavoratori dipendenti e 11 milioni di lavoratori manuali, operai e non operai, o non operai. 11 milioni. Se io facessi anche solo un milione di iscritti in più in quell'area lì, tradizionalissima, avrei risolto i problemi del sindacalismo. Perché non si iscrivono i dipendenti metalmeccanici? Non sono precari, non sono partite IVA, non sono subordinati, eccetera, eccetera. eppure sono gli stessi del settanta. Sono ancora quasi due milioni di lavoratori e il tasso di sindacalizzazione è passato dal 50 al 28%. Perché non si fa lì? E cosa si deve fare lì? qui avete due o tre cose interessanti di come cambia il sindacalismo. Guardate in dieci anni come cresce la NIDIL, come cresce la FILCAMS, commercio, terziario, lavori, lavori, manuali, non operai. No partite IVA o lavori, manuali, non operai. No? E osservate no, volevo solo dirvi che di questi tredicimila sono immigrati. Cioè il sindacato forte dove è forte riesce a intercettare quella che una volta veniva chiamata composizione di classe. Come lo fa? All'apice del successo sindacale tradizionale di movimento questa camera di lavoro aveva 26 dipendenti, 9 ai servizi, 26 sindacalisti, 9 ai servizi, con un totale di 35 persone nel 1980. È un'altima per cui l'ho messa in grigietto. Gli altri dati invece sono ricavati dalle buste paga. Attualmente ha 61 sindacalisti, 6 in meno rispetto a dieci anni fa, 116 operatori di servizi, full time equivalente, cioè tempi pieni annui, più 29 rispetto a dieci anni fa, a cui si aggiungono 120 stagionali, come sapete, per le varie campagne. Fatturato oltre 20 milioni. La domanda è perché solo qualche rara Avis? Perché non è così dappertutto? a voi la risposta e chiudo con due battute finali sulle difficoltà. Sulle difficoltà. Va bene, questo è un sistema di offerta, di classificazione per prodotto e qui, ecco, la cosa interessante è che i servizi, qui è l'errore di Olson o l'errore, il fatto di pensare a Olson solo come servizi, come incentivi selettivi. In realtà la contrattazione produce servizi dalla mattina alla sera, qualcuno l'ha detto prima. Il contratto è il primo produttore di servizi. Dal controllo della busta paga, l'ufficio vertenze, al controllo del livello qualifica e avanti di questo passo, insomma, alla bilateralità, eccetera, è il primo produttore di servizi. E poi c'è la legge, senza Stato niente servizi. Ora, qual è il punto di difficoltà? Ne accenno a tre e ho chiuso. Troppo. Anzi, mi fermo. Allora, primo, internet l'avete detto, cioè molti di questi servizi vengono disintermediati. In particolare il problema si pone gravissimo per i caffi. ma anche per il patronato una parte consistente. Allora, la domanda è come si reagisce alla disintermediazione? Cosa si fa di nuovo e di ulteriore per coprire i buchi lasciati dalla digitalizzazione? Ecco, per questo è utile sperimentare. Qualsiasi cosa. Prima o poi si spera di trovare la pepita d'oro. Secondo punto. C'è un ritardo gravissimo di tutte le organizzazioni sindacali in quasi tutto il mondo sull'uso di internet. È possibile che tutti riescono a vendere qualcosa tra i sindacati? Che i siti sindacali siano tuttora la pravda. Qualinque sito sindacale è. Chi è che li va a leggere? Chi è obbligato? Io no. Lui sì perché è obbligato. Però la domanda non è questa. La domanda non è questa. Che cosa si può inventare? Questo è il nocciolo. Se ce l'hanno fatte le banche se ce l'hanno fatte le perovie se ce l'hanno fatte i giornali se ce l'hanno fatta a Amazon ma ce la faremo anche noi prima o poi. Ecco però ecco questa è la seconda grande sfida che io vedo. La terza grande sfida è accettare che in certi mondi che in certi mondi l'organizing sia fatto innanzitutto dai sindacalismo militante e striduita. Cioè riconoscere che il sindacato confederale l'hanno non arriva che vadano pure i COBAS che vanno che vadano pure l'ADL tanto c'è tempo per recuperare. Poi recuperi tanto poi fai un contratto nazionale poi fai le regole poi fai i servizi la tutela eccetera eccetera quindi anche questo è un aspetto della contemporaneità che va attentamente analizzato perché mostra un volto diverso dell'organizing e cioè quando chiunque fa i freerider sa che si trova di fronte la gente con i fazzoletti alzati e la molotov in mano. Grazie. Diciamo che è inevitabile a questo punto aprire un breve dibattito e subito diciamo l'area CGL della sala si è animata ma direi di utilizzare uno di devi usare il microfono perché se no non possiamo tradurre. vi invito anche a non utilizzare sigle perché gli interpreti fanno fatica a tradurre le sigle se è possibile. Paolo è stato come sempre efficace e tranchant e io faccio un po' da controcanto perché cerco di limitare il suo estremismo interpretativo perché lui ha ragione su quasi tutto ma siccome gli piace forzare alla fine sembra che i sindacati sono forti solo perché fanno i servizi al punto che anche la contrattazione di fatto è un servizio. In realtà cerchiamo di essere un po' più articolati e di dire come anche il tuo schema finale mostra i sindacati sono forti quando fanno tante cose di cui i servizi sono un pacchetto come si dice una massa una formidabile massa da mischia importante perché qui abbiamo un uso fuorviante tu l'hai detto che però dovremmo un po' correggere degli incentivi selettivi olsoniani che non sono solo i servizi tu hai detto perché anche la contrattazione può produrre incentivi selettivi ma ricordiamoci adesso io voglio fare bella figura faccio una citazione colta che è quella di Ischman che in un famoso libro che era Shifting Involvements tradotto in italiano con felicità privata e pubblica abbastanza cioè coinvolgimenti oscillanti criticando Olson però che cosa dice? Dice che gli incentivi selettivi erano anche quelli di identità perché per le persone essere coinvolte e partecipare alla vita pubblica alla vita sindacale alla vita dell'organizzazione è un fattore incentivante non è semplicemente un problema a un costo così come nella interpretazione originaria di Olson veniva detto quindi se noi abbiamo una ricchezza interpretativa che ci consente di vedere che questa tastiera complessa e varia di offerta sindacale tocca tanti aspetti possiamo forse ricostruire nel dare ragione a Paolo che bisogna occuparsi di tutti i lavoratori non solo sulle delle porzioni di confine per usare l'espressione che ha usato oggi Rosangela nel suo intervento del mercato del lavoro lei l'ha detto in modo nobile però diciamo per andare un po' al core della rappresentanza perché e finisco perché i Cobas rappresentano i lavoratori della logistica e i sindacati confederali stanno dentro questo ambito riducendo il loro ruolo perché gli offrono una rappresentanza a tutto tondo inclusi i servizi ma che non parte solo dai servizi quindi attenzione cerchiamo di restaurare l'idea di un'offerta compiuta da parte del sindacalismo confederale grazie Mimmo in ordine cronologico anzi sì in ordine cronologico inverso Giancarlo Pelucchi e poi Roberto Pedersini Giancarlo Pelucchi responsabile nazionale della formazione della CGL non vorrei sembrarsi che la CGL non ha apprezzato si sono coordinati come al solito però è scattato no molto stimolanti gli interventi dei due vecchi io interessante anche la prorogazione di Feltrini non è la prima volta io che mi trovo come generazione a metà strada tra voi e i giovani che citava Feltrini sulla vergogna primo l'Inca è stata fondata dalla CGL quando eravamo tutti nella stessa CGL nel 45 da un signore un bracciante semi-analfabeta che si è istruito ed è diventato il capo della CGL di Vittorio e che aveva ben presente che lo Stato unitario italiano ha sempre investito sull'ignoranza c'era un diritto complicato qui non c'è stato non c'è mai stato Bismarck però c'era una forma di sostegno in qualche modo anche frutto intanto dello Stato corporativo fascista ma prima di quello della dottrina sociale della Chiesa e del pensiero socialista che erano maggioritari nel sindacato ma lo Stato ha sempre investito sul fatto che c'erano delle leggi e le persone non sapevano accedere agli effettivi benefici di quella leggi il patronato poi anche il CAF ha sempre aiutato quelle persone a godere effettivamente di quei diritti e oggi siamo al paradosso che tutti i governi colpiscono le strutture di assistenza e sostegno dei sindacati di tutti dell'Inca come dell'Inas l'Inps se domattina non ci fossero più i patronati chiuderebbe perché non si conosce non sa neanche come funziona e non ha le forze per fare quello che dice la distanza tra la tracotanza dei presidenti che si succedono e che sparano scusate il francesismo va bene non lo dico a raffica e la capacità di gestione tra di noi non c'è bisogno andare oltre quindi per noi quella strada è una strada importante la vergogna occhio perché non è così diffusa Feltrin citava una camera del lavoro io non sono un figlio del 68 e mi sono scontrato nella mia sto sono nato nel 64 nel 68 andavo all'asilo è vero che a Sesto San Giovanni dove sono cresciuto il mio asilo era di fronte alla Falc e noi eravamo tutti contenti quando vedevamo uscire i fumi e i colori dal dalla testa del T3 i nostri genitori un po' meno e poi da grande il Cuzz di Sesto San Giovanni questo è il punto quando il sindacato era fortissimo nel 74 non è merito mio perché andavo alle mentari 100.000 iscritti 40% in 5 fabbriche era l'interpretazione che dava prima carriere dei incentivi orsoniani la classe non erano operai quella era classe erano iscritti una percentuale di iscrizioni imbarazzanti non era la Fiat non era Mirafiori era un misto tra il sindacato che dava identità e i servizi io lì quando ho cominciato a farlo qualche anno dopo da giovane sindacalista vent'anni dopo e seguivo la siderurgia ed ero la destra perché la FIM e la Wilmer erano molto più a sinistra della FIOM a Milano sapevo che il delegato il senatore quello che era in grado di tenere l'assemblea due o tre mila persone alla volta e il delegato sociale che non era capace di fare quella roba lì non ce l'aveva nelle corde ma rispondeva ai bisogni individuali dei singoli lavoratori erano stimati nello stesso modo e quel sindacato era un sindacato che teorizzava che non eravamo nati nel sessantotto perché hanno fatto la resistenza perché hanno fatto l'unità sindacale negli anni cinquanta e qui voglio chiudere proprio perché la storia non è iniziata nel sessantanove e non è finita nell'ottantanove la nostra storia la storia del sindacato servizi collettivizzanti e nuove mutualità ma dico solo il titolo ci sarebbe un bel capitolone ultima questione qualunque sperimentazione va bene diceva Feltrin aggiungo un pezzo io non credo alla capacità di riformare il sindacato di un gruppo illuminato che dall'alto occhio però anche al contrario nella mia esperienza sindacale quando c'è una bella esperienza di sperimentazione ho sempre tentato di non farla conoscere subito di farla maturare perché se no parlo della CGL mica della CISL che è diversa da noi noi siamo cattivi voi siete buoni ma se tu fai conoscere subito una bella realtà vincente interessante e una bella sperimentazione viene repressa non vorrei dirla in modo troppo sovietico o da pravda ma è la realtà e quando io che sono responsabile la formazione un segretario di una struttura mi dice regionale di solito o di grande camera lavoro abbiamo tanti giovani non hanno la nostra cultura non hanno la nostra storia mettili insieme fa costruire una rete usiamo i nuovi codici e tu lo fai dopo un po' ti chiama mi prende per l'orecchio e dice cazzo ma questi qui invece di seguire quello che dice il segretario generale della categoria lavorano tra di loro si scambiano le esperienze si cambiano le storie inventano dei modi nuovi di comunicare di far sindacato fermati lì grazie grazie Giancarlo e l'ultima domanda perché poi diciamo 12.47 c'è il taxi e quindi ti chiedo di nuovo Roberto di essere super sintetico velocissimo ci provo grazie Paolo richiami importanti soprattutto apprezzo e condivido l'attenzione ai numeri le risorse le persone anche le sedi i bilanci queste sono cose su cui in Italia ma come diceva giustamente Paolo in tutta Europa almeno dovremmo lavorare e riuscire con la cooperazione del sindacato ad avere più dati perché quelli sono chiaramente importanti e ci danno una misura del ruolo che il sindacato riesce a giocare in diversi contesti questo è sicuramente molto importante come richiamo e un impegno che dovrebbe essere credo condiviso e comune a impegnarci in quella direzione qualcosa di che non mi convince allora sicuramente il ruolo dello Stato è importante e qui bisogna vedere in che modo la regolazione statale e l'azione governativa opera per rafforzare coinvolgere dare risorse anche al sindacato però non credo che queste cose nascano per caso perché se conta lo Stato in realtà conta la politica e quindi queste se viene introdotta una 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 norma che per esempio prevede la costituzione dei CAF non credo che nasca per caso quindi lì sicuramente e poi non si rafforza per caso anche perché ovviamente risponde ad esigenze di vario titolo e risponde anche a bisogni e aspettative questo insomma se conta lo Stato conta anche la politica e va in qualche misura inserita nel quadro seconda cosa l'organizing non funziona mi sembra un'affermazione un po' eccessiva perché il sindacato fa sempre organizing da sempre quindi bisogna vedere come viene fatto infatti dicevi non militante confederale l'organizing è un aspetto essenziale dell'azione sindacale e sicuramente funziona perché se no non ci sarebbe il sindacato quindi questa è un'altra affermazione contano i sindacati forti nazionali che fanno contratti nazionali peccato che i contratti nazionali non sono nell'unica cioè non sono nella disponibilità del sindacato perché deve avere una controparte quindi servono le associazioni datoriali di carattere nazionale e serve forse anche un sistema di regolazione che promuove quel tipo di regolazione quindi insomma sicuramente i sindacati nazionali sono più forti però non possono essere nazionali da soli ci vuole qualcun altro che sia la regolazione che sia che sia appunto anche la controparte quindi l'altra cosa invece un po' più tecnica che dico solo non mi stupisce che là dove ci sono più sindacalizzati e più pensionati ci siano anche più servizi perché evidentemente questa offerta corrisponde alla domanda quindi vedrei in quella in quel rapporto vedrei in realtà una correlazione fra le due variabili che quindi non dice forse moltissimo ci penseremo una seconda volta ecco grazie scusate sì prima di andare via solo due battute per chiarimento perché l'intervento era breve organizing era riferito alle nuove forme che vengono proposte non all'organizing tradizionale ecco mancherebbe anche altro ecco noi se no non saremmo qui questa è ovvio sì d'accordo su tutto l'unica cosa che mi ero dimenticato di accennare è il problema non è è chiaro che ci vuole la spinta eccetera eccetera il punto è che nessuno avrebbe mai immaginato che i CAF avrebbero prodotto tutto questo questo è il nocciolo nessuno quando con una azione di lobbying eccetera ha ottenuto i CAF pensava a quel che sarebbe diventato vent'anni dopo questo è il nocciolo previsivo e accanto a questo un suggerimento per la ricerca è guardate anche alle occasioni perdute perché c'è la logica del primo arrivato il primo arrivato meglio alloggia cioè se un'attività è occupata da qualcuno è difficilissimo entrarci pensate ai fondi pensione pensate ai servizi per l'impiego pensate alla formazione pensate alle case cioè ci sono mille settori in cui tu hai perso il treno e non lo puoi più agganciare e ultima osservazione che ho concluso in tutti questi servizi per le ragioni complicate della società contemporanea si è introdotta la concorrenza di mercato cioè altri soggetti non sindacali si candidano a fare esattamente le stesse cose grazie e buon lavoro grazie a Paolo buon viaggio è davvero come ci aspettavamo è stato un grande arricchamento insieme a tutti gli altri arricchimenti che abbiamo avuto chiaramente terremo presenti i suggerimenti di Paolo ma anche questo dibattito che si anima sulle dinamiche del conflitto dell'organizing del rapporto tra contratrazione e servizi mentre Paolo va a me ha fatto riflettere un punto il fatto di scrivere quanti sono i sindacalisti in una camera del lavoro in un'unione sindacale territoriale e quanti gli addetti ai servizi a mio parere poi magari diciamo cogliamo questi 15 minuti prima delle conclusioni di Giulio per non tanto per quello che posso dire io ma di per continuare qualche riflessione su come portare avanti gli spunti di ricerca poi chiaramente Giulio Romani coglierà gli spunti politici di questa giornata e a mio parere però vorrei capire anche da chi è presente penso anche ai sindacalisti che sono qui questa statistica ha un limite che sempre più in alcune categorie più che in altre ma se io leggo le tesi congressuali della Fincis metà sono sul rapporto tra servizi e contrattazione visto che si parla di metà meccanici tu hai sindacalisti che fanno non è una novità assoluta ma sempre di più in agricoltura in edilizia per fare degli esempi fanno un mix tra operazione anche pura di servizi e contrattazione e quindi quella statistica ha delle figure ibride visto che appunto abbiamo parlato di sindacato ibride ci sono anche sempre di più figure ibride che stanno a cavallo di diversi tipi di contrattazioni territoriale aziendale gestione della contrattazione nazionale gestione della bilaterarità ma al tempo stesso anche si trovano a operare come un mix tra il sindacalista classico e l'operatore dei servizi se possiamo fare altri due esempi si è parlato di sindacati in uscita ma anche di sindacato che ascolta non sto a spiegare perché a me capita qualche volta di ascoltare mentre sono in un angolino a pistoia quindi una piccola realtà le persone che si rivolgono agli uffici vertenze è una come dire una una grandissima eh fonte di arricchimento di di lettura del mercato del lavoro territoriale di quello che succede ma anche poi come dire trovare il confine tra quello che è un mancato inquadramento e quindi tema di categoria o eh invia al patronato le dimissioni e e invece la gestione classica degli uffici vertenze che sono nati con il sindacato e questo è un è un altro un altro aspetto quindi eh un elemento di ricerca ma poi sto zitto vorrei che appunto su questo ci si reagisse in sale poi diamo la parola a a Giulio Romani è trovare le interconnessioni tra servizi tradizionali servizi innovativi tra servizi tradizionali e contrattazione tra contrattazione tradizionale e contrattazione innovativa potrei fare tanti esempi ma io quando ad esempio so che Ilaria Lani lavora sul tema del degli asili nido in un territorio specifico quello che cos'è militanza oppure come dire creare degli spazi di mobilitazione che però come dire in qualche modo vanno a interfacciarsi con l'azione sindacale tradizionale questo come dire secondo me è un un elemento di grande interesse vi faccio un anch'io per fare bella figura un riferimento storico che ho studiato recentemente e poi apriamo brevemente insomma qualche reazione e poi diamo la parola a Giulio per concludere a me ha affascinato tantissimo parlando di organizing una figura non notissima di un sindacalista dei braccianti agricoli al confine tra Stati Uniti e Messico è uscito un film di Hollywood del 2014 non tradotto in Italia Cesar Chavez è un sindacalista che nasce come organizer puro ok quindi diciamo l'organizing che non piace a Paolo Feltino ok e vede a fine degli anni 50 inizio anni 60 i limiti di questa diciamo teoria dell'organizing di Alinsky e quindi fa sindacato in un ambito totalmente di organizzare i non organizzati però i braccianti agricoli in Arizona che non hanno diritto a nessun tipo di spazio associativo e di contrattazione collettiva si inventa forme di multiformi le marce di centinaia di chilometri attraverso gli Stati Uniti per sensibilizzare i media lo fa i digiuni c'è un'immagine bellissima di lui che prende l'Eucarestia insieme a Bob Kennedy dopo 25 giorni di digiuno per avere il diritto di associazione si inventa il boicottaggio mondiale dei produttori di vino della California negli anni 60 prima del 68 però qual è il più grande risultato di Cesar Chavez ottenere la contrattazione collettiva nel suo settore e deve farla rispettare tramite una serie di leggi di sentenze federali di quello stato dell'Arizona l'altro punto ottiene una sala per le assunzioni cioè in cui il sindacato ha diritto anche di intermediare le assunzioni per evitare i caporali che cos'è questo servicing organizing ci parla oggi stamattina sbobbinavo Guido Baglioni 94enne che raccontava e di quanto sia interessante studiare le nuove forme di servizi in agricoltura tra lavoro diciamo nero e tentativi di emersione e allora come dire queste nostre categorie che prima erano così separate fanno parte di quel fiume che tiene insieme tutto senza come dire sincretismi sbagliati cercando di discendere e ovviamente a seconda dei contesti di relazioni industriali questo diciamo secondo me viene in parte da questo da questo progetto però come dire visto che ci sono anche esperienze proprio sul campo io le le ascolto non le pratico anche per dare spunti a Giulio di conclusione sarebbe interessante avere qualche minuto per continuare questo dibattito Luigi Lama però al microfono perché se no non ti traducono Lama come sapete senior assistente e formatore dei nuovi dirigenti della CIS allora tre cose prima cosa Olson le persone sono diverse per qualcuno la partecipazione è un costo per qualcuno è un beneficio noi siamo tutte persone che godono a partecipare cioè sono persone che patiscono a partecipare e quindi dire che sono tutti in un mondo tutti in un altro è una fesseria detto brutalmente quindi pensare che ci servono gli incentivi in alcuni casi non servono incentivi a partecipare o gli pare il vero di partecipare in altri costringergli a partecipare a fare una riunione andare a una riunione dal condominio alla scuola e così via è un patire anche in famiglia io e mia moglie siamo una per Olson e uno per no seconda cosa la cosa che ci si fa giustamente è Francesco addetti ai servizi si ha detto la contrattazione la serve a noi per capire perché tra di noi ci possiamo capire ma cosa fa un rappresentante sindacale su cento ore di rappresentanza farà un'ora di contrattazione oggi novantanove ore di assistenza ai lavoratori spiegandogli cosa ha ottenuto con la contrattazione come questa si coniuga ai loro bisogni e quindi tu hai questo problema cioè la gente cosa fa quando incontra un sindacalista gli dice ho questo problema c'è qualche norma contrattuale o di legge come diceva anche Paolo che può aiutarmi a affrontarlo passa il tempo così no purtroppo nelle aziende i rappresentanti sono sempre meno molto il suo lavoro lo fanno gli operatori in tantissime che non trovi gente per tanti motivi che non possiamo adesso non voglio affrontare che è disposta a fare rappresentare il sindacale che tuttora sono fortemente penalizzati terzo sono io considero prima Zanna e poi Paolo è stato i miei grandi maestri sul sindacato io per anni trovavo una contraddizione fortissima quello che sentivo dire dai sociologi del lavoro sul sindacato è quello che vedevo nella realtà no l'identità se non si ricorda adesso poi ho scoperto prima Zanna e poi Paolo e ho detto oh è possibile trovare una sintesi fra quello che vedo e quello è una teoria che me lo spiega quello che dice Paolo al 99% è il sindacato che io conosco ma non da ora dal 74 io sono vecchio no io prima di essere iscritto a questa organizzazione sono stato iscritto alla CGL sappiate e ho scoperto da giovane studente di sinistra che doveva lavorare che il momento di massima abitazione della CGL toscana era la campagna fiscale quando la gente doveva fare i denunci di reti nel 75 quindi non negli anni 90 il consumismo sono a sega io ma quando c'era le lotte non so come verrà tradotto questo però le lotte no nei 70 gli anni i famosi anni 70 il momento in cui c'era la massima attività nelle camere del lavoro era quando c'era fare denuncia di redditi no e ultima cosa sulla comunicazione ecco io su questo non sono d'accordo con Paolo non dobbiamo dobbiamo guardare a due tipi di organizzazioni che hanno una natura profondamente diversa no un conto sono le aziende che hanno una caratteristica monolitica verticistica sono compatte e offrono tutte le stesse cose il sindacato è fatto di relazioni fiduciarie personali la gente non si iscrive a Landini non si iscrive a Luigi Spara si iscrive al suo delegato al suo operatore e sostanzialmente non gliene frega nulla del segretario generale di volte non so nemmeno chi è secondo me alcuni molti dei nostri iscritti non sanno che non c'è più la furlana e adesso c'è Luigi Spara ma sostanzialmente non gliene importa nulla è come dire che io scelgo il medico in base al ministro della sanità no io scelgo il medico in base al medico di famiglia e di quello di cui mi fido così la gente ragiona con il rappresentante e si scrive mi fido di quella persona mi chiede di scriversi e io mi scrivo a lui l'identità in qualche maniera è verso quella persona poi se entra dentro l'organizzazione scopre che quello lì è della CIS è quello lì della CGL che hanno delle caratteristiche una cultura e così via e ci sta dentro questa cosa qui cosa vuol dire che confrontare l'uso dei social dei partiti di Renzi e della Fulano è una fesseria perché Renzi è lui no Salvini è lui noi siamo 60.000 delegati che hanno i loro gruppi Whatsapp e la gente parla con loro quindi confondere i numeri dei social dei grandi partiti o di di Biden è un'altra cosa rispetto a un'organizzazione che è fatta di rapporti individuali personali fiduciari grazie grazie abbiamo due interventi prima di dare la parola a Giulio Romani e quindi Ilaria e Mattia quindi è anche interessante la reazione di Nidil e Difensa vado velocissima solo per dire visto che Francesco ci chiamava un po' in causa solo per dire che condivido molto quello che diceva Francesco poco fa anche se ormai è vero che la maggior parte delle categorie i funzionari sindacali fanno comunque anche attività di servizio lo ricordavo prima mattina rispetto per esempio alle prestazioni per i somministrati ma non solo la non solo la 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 lei ma anche fly ora papallo diventa delle siglie della cigelle scusate ma anche gli edili gli alimentaristi la scuola la scuola fa molte attività quindi è chiaro che l'intreccio tra l'attività di servizio di tutela individuale e tutela collettiva è un intreccio sempre più stretto l'altra cosa che volevo dire è che io non ho non ho invece condiviso la come dire il ragionamento forse non ho neanche compreso bene il ragionamento di Feltrin sull'organizing nel senso che invece io sono convinta che l'organizing nel modello proprio di cui si parla ora quello ovviamente anglosassone americano sia invece una buona sintesi proprio tra gli strumenti che consentono di di attivare la partecipazione in una fase post ideologica tant'è che mentre l'organizing recupera cioè è molto simile per tanti aspetti sul all'attivismo diciamo del nostro paese di quello abbiamo conosciuto anche nel secolo scorso un elemento di differenziazione è proprio il fatto che è in qualche modo post ideologico tant'è che nasce negli Stati Uniti dove c'è una tradizione ben diversa rispetto alla nostra ed è si tratta di strumenti che tengono molto insieme la come dire la capacità di fare da una parte pedagogia quindi di mettere insieme fasce di esclusi e di provare a dargli gli strumenti per invece attivarsi e ottenere però risposte concrete è molto concreta quella pratica quindi secondo me è una pratica interessante non molto lontana dalla nostra ma che ci consente di recuperare alcuni aspetti che nell'era moderna invece rendono difficoltosa l'attività di rappresentanza di organizzazione collettiva per questo non ho compreso diciamo invece la sua la sua il suo ragionamento e penso che invece bisogna essere in grado oggi di ripensare al nostro modo di fare organizzazione collettiva guardando appunto anche quelli che sono i cambiamenti e avendo anche un approccio più strategico perché l'altro elemento dell'organizing è l'utilizzare strumenti che hanno un approccio strategico quindi guardare agli obiettivi non nel medio termine ma con un percorso più strategico questo e l'altro aspetto lo diceva Francesco invece ovviamente lo solo lo cito e basta e poi chiudo è quello dell'offrire strumenti di organizzazione di tutela a 360 gradi non solo sul lavoro ma anche sull'aspetto della vita sociale qui il sindacato italiano qui l'organizing ha molto da insegnarci ma anche il sindacato italiano non è da meno visto che nel secolo scorso siamo stati in grado di dare risposte e fare battaglia anche su temi che esulavano dal lavoro ma che riguardavano la vita sociale penso allo sciopero sulla casa penso a quello che abbiamo fatto diciamo sulle questioni l'eccesso al welfare che sono secondo me anche questi punti su cui il sindacato dovrebbe ritrovare una capacità di fare organizzazione di fare battaglie territoriali grazie mentre arriva Mattia due suggerimenti anche agli studenti sia in sala ma anche sindacalisti che collegati da un annetto è uscita una nuova edizione dell'opera di Alì del primo testo di Alì si ha cura di Mattia Di Letti e Alessandro Coppola molto interessante e poi c'è questo intreccio tra la matrice anglosassone e il personalismo francese quindi magari ci si può rileggere il libro che riporta il carteggio tra Alinsky e Maritain quindi in realtà appunto sono diverse culture che vanno comprende e ibridano un pensiero e un'azione anche che affonda nel novecento io molto rapidamente parto da un elemento di contesto noi come dire siamo in un'epoca che potremmo che raffigura bene la pubblicità della Vodafone life is now è tutto senza limiti cioè tutto subito è senza limiti organizzare organizzare i lavoratori oggi non è che mi sto estragnando ma organizzare i lavoratori e in questo contesto sociale è di pensiero non è più il pensiero di una volta è questo pensiero qua il sistema di servizi coglie dei bisogni il sistema di servizi però cogliendo un bisogno o diventa la porta che porta dentro cioè che guarda fuori ma porta dentro o altrimenti il servizio è fine a se stesso faccio un esempio molto pratico all'interno delle organizzazioni sindacali confederali i servizi sono maggiormente utilizzati dai non iscritti e questo come dire è l'evidenza del fatto che il servizio è utile sì lo usano tutti ma allora forse il problema non è che tipo di servizio devo fare ma come si inserisce il servizio all'interno della vita associativa io insisto perché lo diceva anche Ilaria siamo come dire due pensieri diversi ma su questo siamo assolutamente d'accordo perché lo sperimentiamo sul territorio e cioè che il servizio è il punto di partenza io di fatti dico meno operatori di servizi più sindacalisti che fanno anche servizi perché non è straneo a noi ribadisco la storia ci dice che attraverso quegli strumenti siamo riusciti a entrare dentro le come dire dentro i luoghi di lavoro non siamo partiti dai luoghi di lavoro noi siamo partiti da fuori dai luoghi di lavoro oggi siamo dentro ma a Felsa Needle e quant'altro gli è servito vent'anni allora io insisto quindi come dire la lettura deve anche essere deve anche essere di consapevoli consapevoli che è il tutto subito è il tutto senza limiti da parte di un giovane da parte della cultura moderna deve cogliere quella necessità quel bisogno ma sapendo che io mi permetto di dire la storia ci insegna che il bisogno è sempre permane sempre può cambiare sfaccettature ma il bisogno dell'uomo rimane sempre ed è come dire bisogno di giustizia sociale bisogno di giustizia economica e quant'altro partendo da quello da quello spunto secondo me come dire si apre il fatto che è un ibrido ciò che noi oggi abbiamo abbiamo a disposizione non è come dire due elementi frapposti grazie grazie a Mattia e a questo punto penso che da un lato abbiamo un materiale per vedo Alberto che sta per svenire Alberto Gerardini materiale per aggiornare e completare i rapporti di ricerca e vi invito a seguire il sito internet breakback.cisle.it il quale appunto oltre a molti materiali anche di comunicazione che sono stati seguiti magistralmente anche da Ilaria Carlino che ringrazio per il tantissimo lavoro che ha fatto in questi mesi in queste ultime settimane cercheremo appunto di valorizzare anche il rapporto di ricerca e anche la riflessione sui prossimi passi di ricerca in cui comunità accademica sindacalisti nelle varie forme si sono come dire confrontati anche con a volte diversi linguaggi a volte abbiamo discusso però credo che questi tre anni di lavoro ci abbiano fatto crescere e ci abbiano aperto altre domande quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto in tanti paesi grazie grazie Grazie.